Noi ragazzi, ora vi faccio vedere dove si mangia il miglior panzerotto di tutta Taranto Taranto, grottaglie Fritto al volo Iniziamo con l'arancino Il panzerotto come sempre è una tebole, è un bel morsa, amore mio, per noi, dici com'è Mega cucciazza Beh le pucce non erano male, ma lì si va per i panzerotti però Beh le pucce non erano male, ma lì si va per i panzerotti